stasera dormo la casetta di danzario nesta nesta stasera dormo lì guardate i treni che meraviglia ma guardate guardate la ferrovia binario unico di chiuro qui passano i treni guardate di fronte la val fontana sta oggi sono chiuro guardate che bella la valtellina media provincia di sondrio sono qua non c'è problema o dormo la casetta di nazare onesta o la stazione di chiuro eccola qua eccola dove non passano più i treni c'è un luogo per fermarsi per coprirsi dal freddo o dormo dalla mia amica è lo stesso ma lì ma tante e rimanere in valtellina i treni qui non passano più non passano più non passano più i treni eccola di fronte castionetto dove ho una casa quante abitazioni posso avere in valtellina sia lodata valtellina che mi ha ospitato io miro questo cielo incerto dove posso ritrovare me stesso nell'abbandono nel cuore delle altre persone ospitali in questa valtellina guardate saluto mattia mattia che si trova all'alpeggio con la sua mucca angelica saluto mattia e tutti quelli che lavorano intorno lui con le mucche all'alpeggio di al misola bello 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 guardate il panorama ma guardate intorno alla valtellina media saluti da aldo il girovago dopo tre giorni di mare sono ritornato nella mia valle dopo tre giorni di mare ecco il treno non c'è più non c'è più